E' proprio una grande gioia essere qui, per diversi motivi, innanzitutto perché salutare un nuovo libro è sempre una festa e quindi bisogna condividerla, ma questo libro che a filo d'erba il metodo Vesprato di Fabio Polo è qualcosa in più a mio avviso, perché sì parleremo di Prato, di come crearlo e mantenerlo nel modo migliore delle tecniche, dei metodi, però questo libro a mio avviso ci permette di raccontare una storia speciale che è la sua storia, ma è anche la storia di molte altre persone, è la storia di un luogo, San Vito, siamo qui, l'ha detto bene Francesca, in un contesto davvero straordinario e perfetto per questo incontro, ma siamo a San Vito che è indubbiamente un luogo speciale perché necessariamente intanto ti obbliga a ritornare, che questo è una cosa buona a mio avviso, e poi mette insieme probabilmente delle cose buone, delle persone, delle reti, delle situazioni che possono intrecciarsi. Io credo che proprio tra i fili d'erba di questo libro si intrecciano delle energie assolutamente speciali. Però partiamo dall'autore, e lui da sempre si è occupato di comunicazione, appunto l'abbiamo detto, di marketing nel web, di e-commerce principalmente, si è occupato molto di questo anche formandosi in maniera molto precisa, molto accurata. La sua esperienza per esempio di formazione a H-Farm è secondo me molto significativa perché è una realtà d'eccellenza a livello nazionale dove si intreccia proprio l'imprenditoria e le nuove tecnologie. Tutto questo tra l'altro in tempi non sospetti perché si è occupato di e-shop quando Amazon era molto lontano da essere il colosso che è, e così come si è occupato di siti web a livello molto alto a mio avviso, ha una qualità molto alta. Io ricordo benissimo un lavoro fatto parecchi anni fa insieme a Vitraria, insieme a Tadio Zuccheri che è qui, un CD-ROM pazzesco sul lavoro di Tony Zuccheri che, insomma, visto anche a distanza di tempo è ancora un lavoro bello e importante. Ma è così tante altre esperienze, poi ha intrecciato nuove collaborazioni. Nel 2012, per molti motivi che non è necessario affrontare in questa sede, però io penso soprattutto perché è cambiato il mondo, la società Polo Digitale chiude e qualche mese dopo, forse immediatamente dopo, con una buona dose di coraggio, credo un'altrettanto buona dose di follia, Fabio Polo comincia una nuova impresa, una nuova idea. Una nuova idea che parte tutto da un sito, parte tutto da un sito, da un sito di e-commerce che adesso è il numero uno in Italia per la vendita di prodotti per il Prato. Si tratta di bestprato.com. Ecco, Best Prato è l'esperienza, diciamo, di partenza, comincia una nuova avventura. Un'avventura che, secondo me, presuppone coraggio, l'ho detto, follia, determinazione, ma anche una capacità che è quella di mettere insieme intuizione, creatività, quella di cogliere qualcosa che gli altri non colgono. Questo, secondo me, sono le doti, le qualità che fanno proprio l'imprenditore in tutti i settori. E io credo che Fabio proprio questo guizzo l'abbia avuto. Però io vorrei fermarmi a Best Prato perché proprio a lui vorrei far raccontare tutto quello che è accaduto dopo. Ovviamente raccontandocelo così, in grande sintesi, come vuoi, ma insomma, da dove è nata l'idea di Best Prato? Perché poi è tutto quello che sta dietro e accanto al libro, perché poi ci siamo arrivati dopo. Beh, domandona veramente da... Anche perché Best Prato, in realtà, rappresenta un percorso evolutivo che è il mio. Ho aperto un blog, ho aperto una newsletter, cioè ho cercato di mettere in pratica un concetto che secondo me va bene in qualsiasi business. Qualsiasi business voi avete, un business di vendita, sia che una persona deve vendere un servizio, un prodotto, un qualsiasi cosa, non si deve focalizzare su raccontare la qualità, perché le persone in questi tempi non ci credono, cioè sono sempre lì dietro che ti dicono, sì, vabbè, ok, ma che cosa mi vuoi vendere, che cosa mi vuoi dare? Allora, la mia idea, l'idea che sta dietro a Best Prato, il motivo per cui poi c'è stato tutto questo percorso è stato quello lì. Creare un qualcosa di utile per le persone e far sì che quel qualcosa di utile sia l'oggetto della proposta. Dopodiché è chiaro ed è evidente che le persone, se tu gli racconti la bellezza del fare il prato, come si riesce in maniera concreta ogni giorno a fare, a tenere il tappeto erboso, ti premiano, perché probabilmente se racconti queste cose, probabilmente non è che proponi poi dei prodotti che non sono dei validi prodotti, no? Cioè sarebbe un po' stupidino se il sottoscritto dopo tutto un percorso di proposta, di contenuto, di dire, di spiegare nelle newsletter, di raccontare nel blog, di fare il video, di dire, guardate per fare il prato bisogna concimarlo quattro volte all'anno. e dopodiché io, che sono il titolare anche di un'azienda nel mio shop, ho dei prodotti che non valgono, c'è qualcosa che non va, no? Quindi è chiaro che poi le persone questa cosa qui in realtà la sentono, la mia esperienza è stata questa. La realtà di Besprato è diventata molto più significativa nel momento in cui io ho smesso di raccontare che i prodotti che c'erano nello shop erano belli. Il sito e il blog hanno oltre 100.000 visite al mese, la newsletter supera 15.000 iscritti, il canale YouTube sta per raggiungere 10.000 iscritti. Probabilmente sono numeri che non vi dicono molto, ma in realtà sono numeri molto importanti perché il suo utente è molto targettizzato, cioè chi accede e rimane e si iscrive al suo sito e al suo blog è ancora di più alla newsletter, perché la vuole ricevere costantemente, è una persona estremamente interessata a quel prodotto lì. Quindi significa che quei 10.000 sono veramente 10.000, non sono gli utenti che ascoltano un sito di musica o di gossip, ecco, adesso ce ne sono molti. No, qui è proprio l'idea dell'interesse profondo per quel tema lì e soprattutto il fatto di perdurare nel tempo, perché mantenere quel pubblico per tanto tempo è una cosa davvero curiosa. Io sono andata anche un po' a guardare molto in velocità, ma insomma mi sono fatta un'idea un po' forse molto personale, ma che credo che sia un po' la chiave di tutto il successo di questa operazione. hai aperto un dialogo, cioè tu hai trovato un modo di incontrare, di mettere insieme delle persone sulla base di una grande passione che è quella del verde, ma che secondo me si allarga ad altro, perché poi curare il prato è curare il verde, curare il proprio giardino, curare il proprio balcone, curare tante cose che sono vicine alla nostra vita, che forse in un momento come questo ci permettono anche di stare un pochino meglio, ma tu hai trovato proprio un canale, che non è solo il canale YouTube, ma un modo per comunicare, persone con cui interagisci. Mi racconti e mi confermi questo aspetto? Assolutamente sì, e tra l'altro è la cosa più bella, perché come hai detto tu Valentina, parlare del prato, del giardino, di quello che fai, parli, questo me lo diceva sempre Federico, parli di una cosa che fa parte della passione delle persone, cioè oltre che, ricordiamoci, insomma il prato di casa e il biglietto da visita, io non so quanti di voi hanno un giardino, molti magari vivranno in un appartamento, io ho vissuto in un appartamento, però quando mi sono trasferito al piano terra avevo il mio giardino, appartamento da 40 metri quadri, giardino da 10, però ci tenevo, perché è la persona che è la prima cosa che vede, quindi il discorso della passione è assolutamente sì. Questo ti mette anche, almeno mi mette anche, una grande responsabilità, ed è un po' la fatica, perché è vero, ho un canale YouTube che nei piccoli numeri che sta facendo, essendo così molto targettizzato, sono dei numeri significativi, con delle persone che ogni lunedì sera ci ritroviamo alle ore 21, da un anno, da due anni a questa parte, ci sono dei testimoni, per cui saluto Cristi, Emmanuel, che sono venuti qua, hanno fatto strada addirittura per venire qua, perché si instaura in realtà un rapporto nel quale loro sicuramente, poi non sta a me dirlo, riceveranno qualche cosa, riceveranno delle indicazioni, dei suggerimenti, per quanto le mie conoscenze lo permettano, e io ricevo un materiale per il mio lavoro, perché? Perché loro mi fanno capire quelli che sono i problemi, come si fa a mantenere un prato sano nelle prossime quattro settimane, quanti di voi sanno questa cosa, cioè bisogna concimarlo oppure no, come si irriga la mattina, la sera, quanta acqua, va bene? Cioè queste cose qua, che sono la base per riuscire ad avere un bel tappeto erboso, poi non entro nei dettagli perché non so poi se si interessano e magari ci entriamo, però loro mi fanno capire quali sono le problematicità reali che si che incontrano, quindi per me diventa, cioè per me è un impegno perché è un impegno, ok? Però ricevo tantissimo, ricevo tantissimo, non anche umanamente, per l'amor di Dio, ma ricevo moltissimo per poi quello che devo fare, perché i video successivi, gli articoli del blog, la newsletter della prossima settimana, quella di mercoledì, cioè è ispirata dalle domande che dopo, durante la diretta, facciamo un'ora di diretta, cioè siamo pazzi, cioè veramente ragazzi siamo, cioè ci devono, ok, però in quell'ora, negli ultimi 20 minuti c'è solo scambio, cioè loro che fanno le domande e io che tento, perché qualche volta le domande sono talmente, io non ho fatto degli studi specifici all'inizio, poi mi sono affermato, per cui ricevo tantissimo, ecco, questo per il mio lavoro. Sì, magari volevo che dicessi anche gli studi specifici che hai fatto. No, non c'è. Sono poco importanti e credo poco interessanti, tra l'altro, diciamo, probabilmente la cosa bella è questa, non provengo dal mondo della botanica, non ho fatto studi di Agare, ho fatto il Malignani di Udine, sono perito meccanico. È vero che poi però per sostenere il blog e le cose bisogna formarsi, ma il figo, il bello di internet, ma non solo di internet, però internet ti permette di venire facilmente delle conoscenze molto sviluppate, sempre un po' di dimestichezza con l'inglese, e poi ovviamente ho frequentato i corsi, sono andato alla scuola agraria, eccetera, 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 per cui ho cercato di fare, insomma... Il libro, oltre ad avere dei contenuti interessanti e, a mio avviso, esposti e scritti molto bene, è proprio un prodotto bello, quindi io su questo ritorno a Futura. Ecco, magari ci dai qualche... Sì, perché è un po' questo quello che dicevo prima, il legame, c'è questa contaminazione che c'è tra la carta e il web. Quello stile lì, manualistico, a paragrafi, molto arioso anche, fresco, viene dal web, che però calato nella carta, nel libro, nella struttura del libro, quindi nella struttura del materiale che parte da un inizio, procede secondo una logica e va avanti, diventa, non so come dire, ha successo, nel senso che tu lo leggi facilmente, il contenuto, che è quello che deve regnare su tutto, cioè il messaggio, perché alla fine tu devi aver imparato qualcosa, è ciò che viene fuori attraverso questa contaminazione, quindi è sempre 2 a 0 per noi, però grazie al web, grazie perché possiamo, cioè, possono accrescersi entrambe le parti e questo credo sia un bel successo anche per noi. Grazie, a me piace molto questo 2 a 0, questa partita, questo derby, ma in realtà io credo che proprio l'hai detto, è una contaminazione ma vale in generale, il web è una possibilità, il mondo del web in generale, è una possibilità enorme proprio di scambio e di contaminazione, pensate che il festival che curo da un po' di anni, quest'anno fa vent'anni, è nato con quel nome lì, non è legge .it, adesso il .it ogni tanto cade, ogni tanto torna, ma proprio con l'idea che, oddio, dobbiamo controllare questa possibile guerra con il web e il libro soccomberà, allora il pericolo era quello, il libro non ce la farà contro il web, non è stato così, anzi, il libro e il web convivono benissimo, gli ebook con i libri di carta riescono a dialogare moltissimo. Una piccola lettura su questo, assolutamente non è così, il motivo per cui, alla fine, vero, per cui ho scritto, sono due i motivi, uno è un motivo di business, è inutile, però non è interessante, l'altro motivo, in realtà, è che il web è fighissimo, ma è fighissimo per trovare una soluzione, ok? Quindi tu dici come devo bagnare il prato la mattina, scrivi su Google come si bagna il prato, e il web funziona perfettamente per questa cosa qui. C'è un punto dove il web non funziona per niente, ed è la visione olistica, la visione a 360 gradi, l'affrontare un problema, il tappeto erboso, non è una roba che, ok, hai capito il concime, hai capito come si bagna e viene fuori, no, c'è bisogno di tutto, e il libro, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto con Francesca, che mi ha dato una mano a organizzare tutto il contenuto, perché era un disastro, perché io faccio quel mestiere, facevo quel mestiere lì, cioè scrivo degli articoli che sono delle risposte, gli inglesi dicono alla how to, come si fa questa roba qui, ok? E questo il web è fantastico, perché chi tra di voi magari deve, non so come si, per quanti minuti si cucinano le uova sode, io non lo sapevo fare, l'ho scritto su YouTube e l'ho trovato. Quindi per questa roba qui va bene, però se hai bisogno invece di una visione a 360 gradi, secondo me è molto indietro, ecco è quasi impossibile che il web riesca a togliere questo a uno strumento cartaceo, a uno strumento di studio, a un approfondimento più organico, ok? Certo, sono assolutamente convinta di questo, ma poi c'è la carta, c'è il gesto, c'è l'avere qualcosa lì vicino, il libro è qualcosa che vive insieme a noi sempre, attraversa le nostre vite, per cui non ho dubbi. E quindi proprio per continuare a parlare di libri, faccio una citazione, la poetessa inglesa Emily Dickinson, è davvero una delle poesie che più mi piacciono in assoluto, dice, per fare un prato occorrono un trifoglio e un'ape, un trifoglio e un'ape e il sogno, il sogno può bastare se le api sono poche. Insomma, è una piccola poesia che io trovo adorabile, in realtà tu ci dici che serve molto di più, serve molto di più del trifoglio, dell'ape e anche del sogno, perché serve un metodo, delle pratiche, che sono complesse nel senso che sono diverse. Il libro è scandito da azioni fondamentali, quindi seminare, concimare, tagliare, irrigare e curare, e questo già scandisce tutti i tempi di quello che è il nostro lavoro per il prato, la nostra cura. Adesso senza entrare troppo in tecnicismi e soprattutto senza spoilerare troppo, perché il libro è lì, ce ne sono un bel po' di copie, devono essere vendute tutte, quindi se tu spoileri poi uno non prende il libro e poi dobbiamo dire anche chiaramente che non tutto e non con questa organicità la si trova nel web. E quindi io ti chiedo, come possiamo riassumere in qualche punto fondamentale, è ovvio che anche questa è una domanda difficilissima, però sono sicura che tu riuscirai a rispondere benissimo. Allora, facciamo così, perché racconto solo un aspetto che secondo me è qualificante di quello che è il processo diciamo per il quale questo libro potrebbe essere interessante, ed è questo. Ed è stata la più bella scoperta che ho fatto io nel corso di questi ultimi anni e che mi ha permesso di scrivere quel libro lì, perché è un libro che è un po' diverso dagli altri libri, che è una scelta, marcatamente, lo diceva prima il sindaco nel saluto, di sostenibilità. Cioè, nel libro, oggi fare il tappeto erboso, tenere il prato a casa, in realtà non è, anche se è una passione verde, in realtà molte volte non è così green, come dovrebbe esserlo. Cioè, si fa uso, fino adesso ci ha fatto molto uso di diserbanti, diserbanti totali, selettivi, eccetera, eccetera, oppure di prodotti chimici, fitosanitari, per il controllo delle patologie fungine, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, esiste un'altra strada, ed è una strada molto affascinante, ed è la strada raccontata nel metodo Besprato, che significa andare a prendere tutti gli elementi, che assieme, questi piccoli fattori 1%, non fare gli errori nella semina, non fare gli errori nella concimazione, non fare gli errori, ma sono piccole cose, ma anche banali, eravamo l'altra sera per coordinarci, no? E stavamo parlando, e c'era Emanuele, che adesso è tornato alla corte del castello, credo, nel suo bar, che mi diceva che sua madre gli aveva detto che arrivava il caldo questa settimana e che doveva ricordarsi di bagnare il prato, sua nonna? No, sua mamma, che doveva bagnare alla sera, che è una cosa sbagliatissima, che poche persone sanno, che bagnare il prato alla sera non va bagnato, e non va bagnato tutti. Allora, non voglio entrare nei tecnicismi, se no mi fa il gesto di tagliare. Quello che voglio dire è questo, c'è una strada diversa, ed è una strada estremamente virtuosa, una strada che con poche, piccole accortezze, ti riesce ad ottenere il risultato. Poi prima parlavo, penso con Manuel o con Cristian, non mi ricordo, è chiaro che la soglia di tolleranza rispetto, che ne so, a un po' di infestante, cioè dobbiamo alzarla, cioè dobbiamo, è chiaro che se noi vogliamo il tappetto erboso in inglese, si chiama tappetto erboso all'inglese, ma non siamo in Inghilterra, ok? Siamo in Italia. Quindi, quello che voglio dire è, questo qui è stato la cosa più illuminante, secondo me la cosa più bella che ho cercato di sviluppare. Tra le altre cose, è mette le persone, che mettono in pratica, soprattutto l'ultima parte del libro, che è la parte di contrasto, di controllo delle avversità, perché quando, se c'è chi tra di voi che ha cura del prato, sa che, insomma, è faticoso, è faticoso e anche deludente, ma nel momento in cui si passa dalla gestione, dal delegare alla chimica, alla pillolina, alla soluzione del problema, cambia tutto, ma cambia proprio tutto, nel senso che, se noi pensiamo che, ok, c'è una malattia fungina, c'è una fogliolina che non va bene, perché non ci piace, andiamo in agraria, andiamo a prendere il prodotto chimico, lo spruzziamo, l'erbetta, quella brutta, se ne va via, abbiamo risolto il problema, ok, però abbiamo agito, non sulle cause di quel problema lì, tornerà, perché madre natura, cioè un attimino, un po' più bravo, un po' più forte di noi, cioè non è che, così noi le abbiamo eliminate, dopodiché, no, tornano, quindi, è molto più conveniente, molto più salutare, molto più di buonsenso, fare un approccio completamente diverso, dire, ok, lì c'è quella cosa lì, perché? C'è lì, perché stiamo facendo degli errori, errori, allora, questa cosa qui è stata quella che nel libro, tra l'altro, ho cercato di sviluppare nella seconda parte, però è chiaro ed evidente che un primo livello è facile da mettere in pratica, dopodiché, quello lì è solamente una porta d'ingresso per un percorso che poi uno può fare, non solo seguendo il canale di Best Prato di YouTube, ma in mille altre maniere, ecco, non ho mica questa pretesa, vabbè, chi non sa, ecco, gli errori, parlavi degli errori, diciamo, proprio sono trasversali in tutto il libro, perché in ognuna delle azioni che noi dobbiamo compiere per curare il prato, ci sono delle cose che magari sbagliamo, quella di bagnare alla sera, ero convinta anch'io, assolutamente, che fosse una pratica giusta, invece non lo è, un'altra è la fretta, tu citi un libro bellissimo che è lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, dicendo la fretta è di per sé un atteggiamento velenoso del XX secolo che tradisce indifferenza e impazienza, questo è un altro degli errori, quali sono gli errori principali che facciamo, ma quelli proprio più immediati e più banali, proprio come bagnare il prato la sera? Una domanda impossibile da rispondere, per cui do solamente una lettura, che è la lettura che mi fanno capire le persone con cui interagisco, che è quella lì, quella che hai citato, cioè, oggi viviamo, adesso non è che voglio fare il filosofo delle sette e mezza di sera del parco a rota, no, però viviamo in un tempo nel quale vogliamo la cosa, non diamo tempo alla natura, alle cose che facciamo, di esprimere quello che ci devono dire, e quindi l'errore parte sempre tutto da lì, perché noi vogliamo il prodotto chimico, perché non abbiamo voglia, tempo di stare lì, di capire, di approfondire, di mettersi in ascolto di quello che è il problema che nasce, quindi, secondo me è un po', è come dire, nel momento in cui cambiamo l'atteggiamento e riprendiamo quello che dicevo un attimo fa, cioè andiamo a capire quali sono le cause che comportano quel problema, guardate, le piante, sto leggendo adesso un paio di libri che sono meravigliosi, li ho scoperti tardissimo, quindi, qualche di uno qua, più appassionato di me mi tirerà le orecchie, ve li consiglio tutti, sono arrivato al penultimo, sono dei libri di uno scienziato del Verde, che si chiama Stefano Mancuso, il quale racconta in un linguaggio per bambini, cioè in un linguaggio semplicissimo, l'intelligenza delle piante, di come le piante siano sempre state considerate da noi degli esseri inferiori, da Aristotele, che le collocava proprio, diceva, noi siamo esseri viventi, dotati di intelligenza, le piante no, mentre è stato dimostrato, basta accordarsi sul concetto di intelligenza, che cos'è l'intelligenza? Che cos'è l'intelligenza? Intelligenza, boh, non lo so, la butto io, è la capacità di risolvere un problema, e volete dire che le piante non sono capaci di risolvere un problema? Allora, ripeto, non è che voglio fare il filosofo di sta roba qui, però, la mia piccola esperienza è che nel momento in cui noi ascoltiamo quello che la natura c'ha da dire, se arrivano le malattie fungine nel prato, che si secca di estate, non è perché la bagniamo poco, ma è perché lo stiamo bagnando tanto, è perché lo bagniamo alla sera, è perché è sbagliato bagnare il prato alla sera, perché l'umidità nel terreno attira i funghi patogeni, le malattie, ci sguazzano, ci trovano, e quindi magari noi diciamo, boh, è senza concime, quindi gli diamo concime, carico di zuccheri, carico di azoto, quindi vanno a nozze queste cose con i funghi patogeni, lo bagniamo tanto, rimane bagnato tutta la notte, 24 ore, ciao, quindi ecco che conoscere queste cose qui, darsi anche il tempo di approfondire, insomma, calmarsi un attimino, tollerare un po' di malattia, e seguire Vesprato. È semplice. Sì, tu parlavi anche delle, come dire, dei problemi esterni, quelli che non dipendono da noi, ce ne sono molti, poi qui nell'ultima parte parli anche proprio delle malattie, e di come curarle, come prevenirle, ma è una cosa che forse non c'entra molto, ma mi ha incuriosito, cioè con una, la stagionalità anche per il prato, così come per tutte le piante, è fondamentale, ed è fondamentale anche per i frutti della terra, per tutto quello che dobbiamo in qualche modo far crescere, ma con stagioni pazze come questa, salta tutto? Cioè lo schema poi salta, oppure c'è il modo di tenere un controllo un po' della faccenda? Questa domanda qua la farei rispondere a Cristian, è proprio, sì, salta, alcune cose saltano, saltano, perché è la natura, la natura non è sempre uguale, forse è tutta uguale, sarebbe tutto semplicissimo, un robot farebbe le cose meglio di noi, quindi basterebbe semplicemente chiedere al signor consiglio, che al posto di fare i concimi e le sementi, facesse un robottino, che fa tutte e quante le cose, ma non funziona così perché la natura di per sé ci pone sempre dei problemi che sono completamente diversi e quello di questa stagione ci ha fatto tribolare, tribolare per due motivi, uno perché i lavori nel prato sono stati molto complicati da fare, perché pioveva sempre e faceva freddo, e non è che l'erba, il tappeto erboso non vive nel frattempo, anzi, ha bisogno di nutrimenti, soprattutto io dico sempre, quando io parlo del tappeto erboso, non parlo di un prato abbastanza di biodiversità come quello dove siamo qua, questo è un prato molto eterogeneo, chi ama il tappeto erboso ama il prato inglese, quello proprio tutto fighetto, denso, uniforme, tutto di un certo tipo, quello consuma tantissima energia, l'energia, le strutture vegetali come la fanno? La prendono dal sole, figata, assorbono l'indirida carbonica e producono di scarto, noi produciamo, loro producono vapore e acqueo, per ricostruire poi i mattoncini delle cellule, utilizzano gli zuccheri che poi hanno prodotto attraverso la fotosintesi e li combinano con l'azoto, o il potassio, o il fosforo, questi elementi minerali che trovano nel terreno, ok? Quando facciamo un prato molto intenso, abbiamo bisogno di dare con costanza questi elementi minerali, quando ci sono stagioni come questa, madre natura e la pioggia se li porta via, alcune, poi bisognerebbe entrare nel dettaglio, non faccio, però alcuni di questi nutrimenti vengono dilavati, fanno più di poi il prato comunque cresce e quindi c'è una maggiore attenzione, moltissime persone con cui interagivo nelle dirette, nelle cose, sono andate in sofferenza per questo motivo, perché non c'era nutrimento nel prato e quindi bisogna un po' tarare, tarare le regole di base sulla base, scusate il gioco di parole, di quello che sono gli andamenti stagionali, questo sì, l'anno scorso, non so chi tra di voi si ricorda, c'è stato un marzo, il 31 di marzo, San Vito il tagliamento ha nevicato, 30-31 di marzo, una roba del genere, e c'è stato un marzo freddissimo, quest'altro c'è stato un marzo caldissimo, tutti quanti a tagliare l'erba a fine marzo, a concimare, poi è arrivato aprile che ha bloccato tutto, ma ha bloccato in parte, perché comunque le graminacee, 12-13 gradi, lavorano, lavorano, quindi crescono, hanno bisogno di nutrimenti, quindi quando il prato in una stagione di questo tipo, adesso ci sono tante piccole malattie, e in giro c'è la ruggine, ci sono queste malattie, che sono le tipiche malattie di carenza da nutrimenti, perché bisogna modificare un po', una prassi rigorosa, anche le regole che sono scritte lì vanno adattate, insomma, poi comunque nel libro abbiamo aperto anche un canale, perché il libro non è solamente Fabio Besprato che ha scritto un qualcosa, all'interno c'è anche un'email con quale possiamo interagire, e mi arrivano costantemente delle domande, sulle quali, perché poi alcune cose, bisogna avere delle conoscenze, che magari non tutti vogliono avere, e possono avere, però ti assicuro che, se tu fai comunque, le cose che sono scritte in quel libro, l'80% dei prati, seguiti anche in questa stagione, seguendo quel tempismo di madre natura classico, ok, il prato è sano, rimane sostanzialmente sano. Sì, nel libro, oltre a esserci riferimenti al sito, e quindi alla possibilità di chiedere le cose, c'è anche una, hanno, hai riportato anche alla fine, una bella bibliografia, di fonti importanti, quindi che ha voglia di approfondire, di leggere anche altre cose, di capire da dove arrivano poi, le tue formazioni, le tue informazioni, e la tua formazione, insomma, lì c'è tutto. Ancora una cosa, ti volevo chiedere, poi, se avete qualche domanda, anche proprio pratica, precisa, sul vostro prato, noi le ascoltiamo, no? L'ultima cosa, proprio per, proprio una cosa, un'informazione pratica, anche questa, quanto tempo, perché a me questa cosa incuriosisce molto, non sono riuscita a capirla, quanto tempo porta via, quanto tempo bisogna dedicare, a un prato, perché stia bene? Oddio, non mi sono mai posto questa domanda, cioè, la risposta potrebbe essere, semplicemente, non lo so, cioè, in realtà, le operazioni, in sé per sé, una volta che, hai le giuste attrezzature, sono bellissime, cioè, se io devo fare un trattamento, e so farlo, con i prodotti giusti, con l'attrezzo giusto, se devo fare anche le cose, proprio più evolute, quelle più fighe, quelle più avanzate, quelle, la biostimolazione, la biottirazione, mi piacerebbe parlarvi, ma poi vi annoia, qua, c'è da bere, per cui, queste operazioni qui, se tu sei attrezzato, sono banali, perché tu fai un passaggio, con una pompa, a carrello, con una barra, così, e fai un trattamento, di due metri, hai fatto due camminate, in giardino, e hai fatto 100 metri quadri, quindi, il problema, è che, molto spesso, alcune persone, non hanno questo tipo di attrezzature, quindi, magari c'è all'inizio, un piccolo investimento, guardate bene, ecco, quello che non voglio che passi, è, la proposta, di, delle scorciatoie, cioè, quando parliamo di tappetto erboso, parliamo di persone, che lo vogliono, che lo desiderano bello, per cui, il paradosso della tua domanda, è questo, che alcune di queste persone, in realtà, se gli togli tempo, non gli va bene, perché, cioè, è comunque una passione, cioè, se io chiedo a Michele, che suonava qui, ma, Michele, fai le prove, e ti scoccia a fare le prove, Michele, ok, però, insomma, quando uno fa, qualsiasi passione voi abbiate, insomma, se ci state sotto, non è un problema, è vero che, man mano che sali di livello, e la qualità, che tu, eh, pretendi da te stesso, diventa più alta, allora, inizi a, a cambiare, l'attrezzatura che hai, magari, al posto del carrellino, da, 50 euro, te ne prendi uno da 150, piuttosto che, la pompetta a spalla, ti prendi la pompetta, con la batteria al litio, col carrellino, fai tutte queste cose, e, e questo ti permette di fare, salti, significativi, più delicato, sarebbe il discorso di affrontare, invece, il costo, no? E dico solamente una parolina, perché non voglio, anche qui bisogna, no? Parliamo sempre di passione, e parliamo anche, che nel momento in cui, inizialmente, io dico, il costo di start up, per avere un bel prato, non è bassissimo, ok? Però, con un metodo, non chiamo il metodo naturale, con un metodo, con un metodo, con un metodo naturale, diventa veramente virtuoso, cioè, la pianta, veramente, non è che lo dico io, la pianta, veramente impara, cioè, è dimostrato, che la pianta, modifica il suo genoma, non voglio fare discorso, modifica il suo genoma, quindi il suo comportamento, viene modificato, nel momento in cui impara, un comportamento figo, ok? Quindi, cosa voglio dire con questo? Che inizialmente, fai tanto sforzo, loro, i miei cari amici, che mi seguono, lo sanno, ma dopo diventa, pian pianino, mese dopo mese, anno dopo anno, diventa più facile, più semplice, il prato risponde, in maniera molto più reattiva, diventa più capace, bla bla bla, bla bla bla, ok? A me mi ha convinto. C'è qualche domanda, qualche curiosità, ma, insomma, senza, senza problemi. Scusate, a me dà l'impressione, che questi discorsi, sono fatti, più o meno, per un giardino, di cento metri, cento metri, quando si comincia, a parlare di giardini, di mille metri, la cosa è ben diversa, e io vorrei che mi spiegasse un po' questo. Ok, grazie. Allora, avete capito la domanda, allora dice, il giardino piccolo, sì Fabio, è facile, detto così, il giardino grande, e la mia risposta è no, cioè, non è che voglio fare l'impopolare, la risposta è no, cioè, un giardino da cento metri quadri, è sicuramente, più facile, perché l'agente esterno, soprattutto, diciamo, gli agenti infestanti, quindi, ti arrivano il tarassaco, il trifoglio, le margherite, le cose, questo sì, più superficie c'è, più madre natura, che vede un bel luogo, dove sviluppare tutte le graminacee, ha più spazio, e quindi, è più difficile, nel senso che c'è bisogno, diciamo, di un'attenzione maggiore, perché alcuni pericoli sono superiori, però è anche vero l'altro tipo di discorso, cioè che nel giardino grande possiamo, ad esempio, utilizzare delle attrezzature, che ci permettono di semplificare il lavoro, perché sono un po' più grandi, però da un punto di vista, diciamo così, della gestione pratica e concreta, l'utilizzo dei prodotti, non cambia molto, per avere lo stesso tipo di risultato, dopodiché, guardiamoci negli occhi, è chiaro che se lei ha un giardino molto grande, probabilmente, rinuncia a qualche trattamento, ma non perché rinuncia all'obiettivo, ma perché magari inizia a diventare, un po', diciamo così, un po' economicamente, un po' impegnativo, però anche qua, la bellezza, diciamo, del tenere il tappeto erboso, è che all'interno della gamma dei prodotti, che si possono utilizzare, c'è veramente una grande scelta, cioè è possibile utilizzare dei prodotti, di professionali, di alta gamma, che costano tanto, ma con le giuste indicazioni, sceglierà anche un ottimo compromesso, di un prodotto, che magari al costo al metro quadro, è leggermente inferiore, però, ripeto, da un punto di vista della gestione, il campo da calcio, il campo da golf, che sono enormi, oggi utilizzano queste tecniche, cioè io non è che racconto in questo libro, le cose che mi sono inventato, io adesso qua, non so se c'è, Fabrizio Ingegnoli, Federico Tuberga, Marco Assirelli, sono guru, cioè persone che mi hanno, con cui ho avuto l'opportunità, di studiare, di approfondire, sono agronomi dedicati, che curano i campi da calcio, della Juventus, i campi da golf, insomma, e loro utilizzano queste tecniche, ok, utilizzano esattamente questo, anzi, lì vengono, per cui, da un punto di vista qualitativo, secondo me, la differenza non c'è. No, una domanda, non voglio metterti in difficoltà, David, allora, io ho dei clienti, ok, che hanno un problema, ho dei clienti che hanno un problema, con un certo tipo di infestante, che sarebbe l'equisettum, e io, dalle mie ricerche e quant'altro, non sono riuscito a trovare, un compromesso, un qualcosa, per risolvere il problema, volevo, ho detto, guarda, con l'occasione che vengo qui, che ero curioso di prendere il libro, ti seguo tantissimo, sei bravissimo, e volevo sapere, da parte tua, un tuo parere, insomma, a riguardo, tutto qui. Allora, le infestanti, se le vuoi eliminare, vai a prendere un diserbante selettivo chimico, ok, vai là, lo prendi, lo dai al prato, e questo qua te lo elimina, poi, principi attivi, per ogni tipo di infestante ci sono, ma non è quello che a me piace, ok, quello che a me piace, è, uno, mettere, utilizzare, l'intelligenza delle piante, di nuovo, torno lì, l'intelligenza, ma te la declino, non è che adesso te la declino, l'intelligenza delle piante, perché vadano in competizione, cioè io devo fare tutto il mio possibile, poi non so se ottieni il risultato, ma io devo fare, prima faccio questo, faccio tutto il possibile, affinché quella specie vada in competizione con l'altra, e quindi gli tolga luce, aria, spazio, bla bla bla, è un processo lento, però banalmente le solite cose, lo dico non per quell'infestante lì che è molto, eh lo so, lo so, lo so, però magari ci allarghiamo un po' come concetto, l'infestante in sé per sé, lo si risolve con la competizione soprattutto, senza entrare nel dettaglio di quella cosa lì, ti dico che addirittura, le infestanti adesso, nei prossimi anni, le infestanti vengono combattute con un livello di accettazione, parlo per esempio della poannua, del flagello della poannua, di questo infestante che sta rovinando moltissimi prati, e si cerca di capire perché c'è lì, si mandano in competizione le piante, banalmente si alza, cioè perché tagliamo il prato basso, perché abbiamo poca voglia di stare nel prato, ok? Questo è uno dei primi motivi per cui ti arrivano gli infestanti, una lotta integrata, alzare l'altezza di taglio, 7 cm si tiene nel prato di cara, no? 3, perché se lo tieni a 3 lo stressi, cioè stressi quella pianta che deve andare a combattere, col vicino che gli vuole fregare l'azoto, la luce, le cose, non funziona, quindi alzi l'altezza di taglio, frequenza, le graminacee se sono buone, 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 quindi anche qui, si accestiscono, diventano più potenti, si allargano, tolgono spazio, luce, bla bla bla, e quindi tutte quelle infestanti faticano un po' di più, ok? Grazie mille, grazie Fabio per avermi coinvolto in questa cosa, perché mi sono proprio divertita molto, mi ha fatto molto piacere, e bello trovarvi qui, avermi qui intorno, grazie, grazie davvero, grazie a Fabio Polo, grazie. Grazie a Valentina, chiamo un attimino qui anche, allora, l'avevo promesso, al web, perché stiamo comunque registrando, ispirati un po' da tutto il percorso che è stato fatto, faremo un passettino in più, molto, che è quello di dare testimonianza che quelle cose che sono scritte nel libro, che quelle cose, non che ho scritto io, che le buone pratiche di giardinaggio naturale hanno successo, come lo faremo? Apriremo, e qui lo annuncio, nei prossimi giorni, un nuovo sito internet che farà, che ha la pretesa di diventare un archivio fotografico, insomma, anche commentato, di quelli che sono i risultati delle persone che decidono di fare un approccio naturale. Con questo, chiudiamo veramente, i libri sono lì, i cd sono lì, invece il bere è qua. Ok? Grazie a tutti veramente di essere venuti qua questa sera. Grazie. 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 Grazie.